Allora, gestire la comunicazione dopo la rottura, vediamo di che cosa si tratta, ciao Federico ho mandato il messaggio che mi hai suggerito, ti ho scritto ieri per spiegarti la situazione, ci siamo lasciati e rivisti, avevo spiegato che sapevo di aver sbagliato tutto e mi hai consigliato di mandare il messaggio che non sono scritto, mi dispiace molto per quello che è successo, prendiamoci del tempo per noi e vediamo come va. Lui mi mette il like ai messaggi e mi risponde, va bene, non fa niente, facciamo così. E poi poco dopo un altro messaggio ho scritto pace fatta, cosa vuol dire a questi messaggi? Ho risposto, ho fatto bene, certo. Ora, perché hai fatto bene? Perché devi seguire l'indicazione che hai dato prima, cioè ricontattarlo per vedere come risponde a questa cosa. Intanto hai già restaurato, quindi hai ristorato, o restaurato non lo so, in italiano mi sa è restaurato, hai restaurato la, come si chiama, hai restaurato quello che è il rapporto fra di voi, quindi la dinamica fra di voi, almeno una tendenza neutrale, quindi è ok. Sui social come devo comportarmi? Non serve che fai cose, non aggiungere social media, se vuoi risparmiarti la fatica non aggiungere cose sui social, io eviterei di mettere post come quello che hai appena descritto, perché descrivi un post dove metti la famiglia, eccetera. Io metterei solo post e cose sulle stories che fanno intendere che io abbia una vita di valore, cioè se mi porto una cena fuori, metto le foto e le stories, se ne sto con una cena fuori, non faccio capire che è un uomo, se vedo dei post, eccetera, metto quello. Quindi non cose private, non cazzi e mazzi tuoi, ok? Cosa vi devo scrivere tra 20 giorni? Se dovessimo rivederci, rivederci qualcosa, non vi devo comportare? Il corso non l'hai nemmeno visto, cioè ti è passato sotto gli occhi e non l'hai manco visto, devi studiarti il corso, se tu ti dice seriale, dove ti spiego esattamente quali sono gli step da fare ai primi appuntamenti, come interagire ai primi appuntamenti. Quando interagisci con uno da capo è come se fosse una persona nuova, quindi tu non devi pensare di dover fare i numeri da circo, ma devi fare come se fosse una persona nuova. E a voi questa cosa non vi entra in testa, non vi piace questa idea, mi piace che se tornate con uno con cui stavate, allora è tutto come prima. No, è un ragazzo nuovo, cosa devi fare a un ragazzo nuovo? Niente, l'appuntamento, corteggiamento, frequentazione, eccetera. Questo, ok. Vestirmi con cose rosse, ok, oggi ho aggiornamento, mi ha scritto e mi ha chiesto come stai, nonostante non abbia risposto alla sua risposta, che mi hai detto di mandargli, adesso non potrò rispondere perché sono a lavorare, ma dopo cosa rispondo? Spero di ricevere il tuo video in tempo. Sì, proprio immediato. Sto là proprio così. Cioè, capisci bene che se tu non studi non puoi essere le mie dipendenze? Cioè, non è che io ti devo imboccare il messaggio, no? Cioè, il corso di sistema messaggi fatto apposta te lo vai a studiare e ti dice esattamente cosa fare. Cioè, se tu mi chiedi ogni due secondi che cosa rispondo adesso, cosa rispondo adesso, cosa rispondo adesso, capisci bene che non sei in grado poi di vivere una vita normale perché dipendi da me? Quindi non dovresti dipendere da me in teoria. Quello che ti consiglio è di intanto studiarti il corso di sistema messaggi, così sai come gestire la chat. Se aspetta un giorno da te che gli rispondi e ti fai tre ore di pool immersion, non succede niente perché saprai utilizzare la chat. Se invece, la chat a cosa serve, quindi cosa devi fare? Devi usare la chat per arrivare a organizzare un appuntamento con questa persona, quindi la chat è per organizzarsi e non per parlare del più o del meno. Il mood che devi trasmetterti qual è? È un mood positivo, alla grande oggi è passata una bellissima giornata, la tua come sta andando? I mandi questo, poi ti studi il corso di sistema messaggi e usi la chat, ok? Quindi porti avanti la conversazione, crei capitale sociale e poi vedi se vuoi organizzare un'uscita o qualcosa con te. Questo è lo stile giusto. Prima cosa, quindi già questo ok. Poi seconda cazziata. Ti studi il corso di sistema messaggi, il corso di studio di ceseriale. Cosa devo fare al primo appuntamento? Niente. Cosa devi fare? Devi studiare. Perché sennò ti devo fare un video di 70 ore dove ti dico ogni singolo step ai primi appuntamenti che senso ha. Ok? Quindi vai a studiarti su di ceseriale. Rispondi in quel modo ai messaggi, come ti ho appena detto adesso. E studia il corso di sistema messaggi. Usa la chat, le metodologie di approccio che prendi lì. Per fare che cosa? Per far sì che lui investa su di te. Organizzate un appuntamento. Uscite, state insieme e vedi come risponde. Questo è quello che vuoi. Se vuoi ricreare qualcosa di stabile. Se non sta a queste condizioni, la risposta è che lui non vuole tornare con te. O non vuole organizzare qualcosa. Ok? Ed è semplice. È semplice. Non deve essere complicato, capisci? Deve essere facile. Usare la chat per organizzarsi. All'appuntamento, farlo investire e farti corteggiare. That's it, semplice. Hai messaggi a cui non c'è una domanda? Certo che non rispondi. No, non ti chiama scritto pace fatta, non ho risposto. Perché? Perché va bene. È così. Non è un messaggio che prevede risposta. Se ti guardi il corso di sistema messaggi, vedi perché ti dico questa cosa. Che è importante. Ok? Bene. Fammi sapere come procede. È get to the action. Quindi studia, cavolo. Adesso. Perché se poi devi frequentare questa persona, ricominciate a frequentarvi. Almeno sai che cosa devi fare. Ci vediamo dopo.